Alla carriera, Vanda Pirol! Ecco la Vanda, allora io recupero il microfono da questa parte, però volevo accogliere anche Vanda, allora eccoci, buonasera Vanda, benvenuta, sì è vero, solo che purtroppo, per fortuna io non lo sento e allora, fa fatica ad articolare anche, no però io, ah intanto c'è il video lo guardiamo, sì sì sì, non è solo a conoscenza, vediamo un po', lo guardiamo insieme, ho fatto ho capito, ho visto molto poco comunque, beh niente, è veramente gratificante ricevere un premio oggi come oggi alla carriera, soprattutto una carriera teatrale ed è soprattutto motivo di grande soddisfazione per me, di orgoglio oltre che di gratificazione, riceverlo nella propria terra, ebbene sì perché io sono nata a pochi chilometri da qui, a solo pacca. Non so se l'avevate detto, che io ero nata da queste parti, sono una loro conterranea e quindi dicevo appunto questo è un motivo di maggiore soddisfazione. Quanti anni di teatro? Addio! Più di 50 sicuramente, mamma mia che bello! Più di 50 perché ho iniziato a fine, fine anni 50, 59, e ho cominciato con Lava Spettacolo e dopodiché sono passata alla prosa lavorando con i più grandi artisti napoletani e nulla. A cominciare da Nino Taranto, Nino e Carlo Taranto tutti e due, Ugo D'Alessio, Pietro Di Vico, Luisa Conte, Dolores Valumbo, Lando Buzianca, Carlo Delle Piane, non lo so, tantissimi altri che adesso faccio fatica a ricordare, insomma un po' con tutti. premio super super meritato a Vanda Pirol, Giuseppe Sergiani premia, eccolo qui, produttore e talent scout, buonasera, buonasera dottor Sergiani, benvenuto, io so, ecco i nostri ragazzi, Giovanni Miriam, grazie del vostro aiuto questa sera preziosissimo. premio Troisi 2013, Vanda Pirol, complimenti Vanda, grazie Sergiani. Volevo ringraziare veramente tutti, sono stata molto felice di venire qua, per me è stata un po' una rimpatriata, grazie alla famiglia Troisi, grazie a tutta l'organizzazione, alle autorità, ai giornalisti, a tutti quanti. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti, un uomo. Grazie a te Vanda, grazie.